ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodione dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri orologi alle vostre collezioni ai vostri video tutto quello che è vostro di mio non c'è niente qua ci sono solamente i commenti le considerazioni che lasciano un po il tempo che trovano in quanto io dico quello che penso da parte mia no e il tutto è diciamo condizionato dal mio gusto personale da quello che penso del mondo dell'orologeria che non necessariamente è quello giusto e quello corretto anzi non esiste quello corretto ognuno ha diritto di pensarla come vuole e di comprare gli orologi che vuole di accappararsi gli orologi che vuole di divertirsi come si vuole detto questo io oggi ho voglia di fare pochi pochi preamboli e diciamo vi mostro subito l'orologio del giorno che è questo simpaticissimo veramente bello breitling cronomat alla tedesca proprio no 40 mm di diametro cassa funzione gmt e il famosissimo bracciale rolu che praticamente fatto a cartucera a cartucera come dice mio amico piero a fuciliera perché lui è praticamente tecnico no fuciliera va bene dai il vitino inquisitore è pronto per giudicarvi per dare giudizio no per moralizzarvi prima di lo utilizziamo per dare via alla barra spaziatrice anche lei ha bisogno di essere moralizzata ma la moralizzo io ciao davide ciao saluto a te e a tutti gli amici del canale da me stefano e da mia figlia lice dei sei anni ciao ciao fatti vedere la piccola collezione di orologi piccola perché di fatto seguo e mi sono appassionato al mondo degli orologi da pochi anni e della verità anche grazie sui video ho iniziato a approfondire e appassionarmi sempre di più a questo mondo infinito per questo faccio della mia piccola collezione orologi e sono molto contento oggi di mostrartelo e vai però chiedo cortesemente ad alice di passarmi il primo orologio grazie questo orologio è un classico citizen pro master orologio estivo per eccellenza un entry level si porta benissimo ovviamente e soprattutto in estate perché veramente si presta per fare qualsiasi cosa non è fermare in piscina non deve pensare se gli dai un colpo per sbaglio insomma è veramente un bello orologino per tutti i giorni soprattutto appunto in quel periodo lì l'unico neo è un po il cinturino in gomma è un po rigido io ho un polso da 16 e mezzo in un polso piccolo per regolarlo per benino dovrei tenermelo troppo stretto ovvero la piega diciamo del del cinturino non è così morbida per questo mi stringerebbe un po il polso sono stretto a tenerlo leggermente più largo per non farmi il segno sul polso appunto quindi mi tendo un po a ruotare ad ogni modo un bello orologino che consiglio a tutti va bene ma c'è anche il sistema di mettere qualcos'altro e comprati un gomma da due euro su aliexpress o un nato o un cinturino cioè ci sono tanti sistemi per ovviare a questo purtroppo problema che hai avuto il secondo orologio che ti faccio vedere è questo prx powermatic 80 è un orologino che mi piace molto che porto spesso anche in ufficio con la camicia sta molto bene cassa da 40 mm bracciale integrato quindi un orologio che si fa vedere sul polso non piccolissimo è certo ma che comunque sta bene con la camicia con una maglia sta benissimo si nasconde bene anche sotto il polsino della camicia certo l'ho comprato tra l'altro da parquale domenici a bereggio e mi sono trovato benissimo me l'hanno regalato per bene perché appunto sul mio polso piccolo tende un po anche a ruotare sul polso se non è stretto bene più che stretto bene se non è aderente giusto al polso io ho trovato la mia misura quindi anche questo insomma un orologio che consiglio perché onestamente costa il giusto ma è un bello orologio che scarta poco mi piace e ci piace a tutti chiedo poi ad alice di passarmi il prossimo orologio grazie omega speed master l'ultima referenza con il calibro 3861 un bellissimo orologio c'è poco da dire della mega speed master calibro appunto l'ho detto doppio zaffero un bellissimo movimento a vista adesso mi viene voglia di indossarlo anche a me vedi a cosa servono questi video no e lì sono già due o tre mesi che non che non lo indosso ad un paio di mesi tutti spazio ad altri ora ho visto il calibrino dietro lì mi è venuta voglia di indossarlo mi è venuta voglia adesso quasi quasi adesso lo rispolveremo un po per il per fine novembre dicembre no christmas it's christmas time mettiamo fuori lo speed master per calcolare i tempi di babbo natale per cosa boh non si vede bene sotto devo dire che sul mio polso che ha un polso la 16 e mezzo quindi un polso sottile l'orologio sta bene però si muove anche se la cassa è grande importante e che tende un po a ruotare però ovviamente lo speed master è così e deve essere così non può avere una cassa più piccola è già il terzo orologio che mi dice che tende a ruotare cosa c'è il polso fatto come le strade per andare a codena piccolo o grande che sia il polso e l'orologio se hai messo a misura non ruota no quindi non è che devi dare la colpa al polso piccolo ora sarà il prossimo orologio mi dice che tende a ruotare il problema uno schiaffone altrimenti parliamo anche di un altro di un altro modello andiamo sugli automatici magari ad ogni modo regolandolo per bene e la regolazione ma è veramente micro si vede è presente una mezza maglia e le maglie sono piccole si riesce a trovare la propria posizione al polso e in quel caso insomma lo si porta bene l'orologio riconoscibile bellissimo sono contento dell'acquisto bravo un orologio che non si vede spesso sul canale e che te lo faccio vedere direttamente al mio polso poi me lo levo 54 questo tudor un black bay 54 diametro 37 mm topino ho provato prima di acquistare questo il black me 58 e devo dire che questo mi piace molto di più alla chiusura nuova diverso rispetto al black bay 58 ma soprattutto a questa cassa particolare perché è vero che 37 mm di diametro ma con le anze lunghe a questa forma un po rettangolare se vogliamo che comunque sta bene al polso mi piace moltissimo a una cassa sottile regolazione alla clasp che ti permette di regolartelo bene al polso onestamente sono molto molto contento dell'acquisto e l'utilizzo davvero molto spesso l'ultimo orologio anche questo chiedo l'aiuto da parte della mia bambina grazie rolex day just 36 mm un orologio secondo me bellissimo ovviamente un orologio piccolo ma che sul mio polso sta bene ruota io ho un polso piccolo da 16 e mezzo e questo orologio calza la perfezione all'incirca dieci mesi fa era andato in una concessionaria rolex a firenze per lasciare la mia manifestazione di interesse ho provato sia il 41 che il 36 mm e devo dire che il 36 mi stava molto meglio appunto dieci mesi dopo mi hanno chiamato non avevo mai acquistato niente mi hanno chiamato per informarmi che l'orologio è arrivato quindi io sono andato subito naturalmente l'ho riprovato ho messo a misura e che dire benissimo orologio calza benissimo perché con questo bracciale giubilì calza benissimo sul polso molto comodo molto bello si fa notare con questa lunetta che brilla moltissimo ma sono davvero molto molto contento dell'acquisto e certo questo è tutto grazie per lo spazio che mi hai concesso ti seguo sempre quando pubblicherai il video sarò molto contento di mostrarla a mia figlia che mi sopporta che ogni tanto si guarda anche lei i tuoi video brava quindi un caro saluto a te da parte mia da parte di alice ciao ciao a tutti ciao alice ciao carissima ecco che ti vedi un video il saluto te lo faccio un video ciao alice se sei forte anche anche il babbo è forte dai c'è degli orologi 5 quanti ce ne aveva 5 5 orologi tutti degni di nota a cominciare dal citizen pro master entry level arrivare al rolex digest da 36 mm bello blu con la ghiera zigrinata in oro bianco e il bracciale giubilì è bello mi piace molto mi piace tanto quanto il mio acciaio e oro e tanto tanto quanto altri altri modelli di sempre di c'è sono tanti che sono sulla stessa linea che mi piaccicchiano ti diamo un bel sette e mezzo te lo sei meritato per sono pochi ma tutti di qualità nulla da recepire ce l'hai durata che c'è il polso piccolo che gli orologi ruota che questo ruota poi dopo c'è il polso piccolo questo qua ruota però se lo stringo al giusto tutti tutti se li metti a misura giusta stanno sul polso nella maniera giusta non è questo deve avere il polso grande o polso piccolo va bene dopo questo però di battimento in aula diciamo che sei promosso sette e mezzo te l'ho dato il black bay 54 ecco 37 mm a me non chiaramente te c'è il polso piccolo lo sappiamo però a me 37 mm del black bay 54 e 36 del digest sono un po pochi nel senso io mi diverto tranquillamente a indossare orologi vintage con da 34 33 mm senza problemi perché sono coscio che sono orologi vintage sono nati in quel tempo e mi stanno bene al polso limitatamente all'uso che ne devo fare se invece voglio un orologio contemporaneo e lo voglio di una certa misura non 40 mm così 41 sono orologi insomma adatti a rappresentare l'epoca di oggi poi se si vuole per forza andare un bel 38 non lo disdegno è cioè nel senso non prendete insomma c'è misura e misura per come diceva cicciolina no passo prossimo video ciao davide sono francesco da milano e questo è il terzo video che ti mando nei primi video mi ero focalizzato su parte della mia collezione che ti riassumo qui brevemente mamma mia mentre oggi invece vorrei focalizzarmi su due new entry e su va bene due entry va bene però scusami un secondo la precisione il precisino che è in me il furio che è in me mi dice che le scatole dovrebbero essere tutte uguali cioè non è che si può andare così con una con uno zoccolo e una ciabatta come si dice dalle mie parti una scatola rossa due cerchiamo di omologare cioè armonizzare insomma siamo capiti alcuni giocattolini questo bretling cronomat il cronomat è uno dei modelli più importanti di casa bretling che nasce nel tra il 1940 e il 1941 ed è il primo orologio munito con il sistema di calibro calcolatore almeno per casa bretling e da lì si sviluppa e dopo essere stato la famiglia che per prima per bretling ha montato il calibro cronografico automatico realizzato dal consorzio buren quindi per intenderci quello con che che montava anche taglio ha subito un restello nell'anni ottanta che lo ha portato ad essere così ovvero la forma e il design che noi tutti oggi apprezziamo sempre in tema di azione e visto che ci siamo ti faccio vedere anche questo quarzo un bulova lunar pilot altro orologio con una storia un po particolare viene fornito come prototipo a un astronauta davy scott che lo porta a livello privato con sé in missione e a causa della rottura del vetro il suo speed master il prototipo viene utilizzato nelle attività extraveicolari sulla luna bulova sulla luna questo orologio torna in asta bulova lo riscopre e decide di iniziare la produzione di questo lunar pilot si la storia più o meno quella lì sulla luna nel 71 il bulova però da quello che si legge no nella leggenda diciamo nei racconti che ci hanno fatto è che durante la missione gli si è rotto gli si è rotto l'omega speed master e allora ha chiamato il controllo a terra per chiedere il permesso di poter utilizzare il bulova che gli era stato fornito dall'azienda stessa ora no a me dalla testa non me lo toglie nessuno che la bulova gli abbia passato questo orologio qua per indossarlo no a fini di marketing e l'abbia anche pagato bene perché se no altrimenti perché gli ha regalato questo qua da portare portalo 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 lo spazio portalo sulla luna e poi lui per fare il grosso no ha trovato un modo di dire mi si è rotto lo speed master che magari non si è nemmeno rotto omega e si è messo il bulova nel 71 siamo al insomma gli antisegnani del marketing di oggi no track sulla luna ci ha dato il bulova invece che lo speed master si è rotto si è rotto ragazzi si è rotto allora mi sono messo il bulova mi sono messo il va così ha fatto ha fatto la foto sulla superficie lunare così ma a me non lo toglie nessuno dalla testa sono cinico sono cattivo però quenza niente di che ma un orologio carino e la sua storia certo e 2 prima di passare ai giocattolini volevo farti vedere le altre due new entry questo mido multi for appello date certo quando ho visto dal vivo mia mi ha stregato bello bello e ho deciso di far mio buccio per il resto un orologio secondo me davvero interessante ma sì insomma non originale però e questo certina di s2 vintage bello secondo me incarna benissimo lo spirito degli anni settanta e mi ha stregato con l'arancetta rossa dei secondi stregato è adesso come te l'ho preannunciato anche un po provocatoriamente vorrei passare a farti vedere quelli che ritengo un po le giocattolini nella mia collezione il primo è questo casio pacman che secondo me è carinissimo e incarna pieno lo spirito anni ottanta del del viaggio e del vi piace mi piace bello assai te lo provo te lo provo questo wayne industrie no scherzo è un andan mecca quartz in titanio dedicato a batman è molto carino perché quando si illumina anche sui contatori sono riempiti di pasta luminescente quindi qua c'è il segnale di batman insomma niente di particolare andan si è impegnata se si parla di giocattolini non si può non parlare di switch 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 anche alcune edizioni interessanti per esempio se omega è l'official timekeeper switch però è sempre stato legato alle olimpiadi qui c'è una vecchia edizione che da bambino mi ero fatto regalare per torino 2006 e la particolarità è oltre avere un sistema che all'epoca svoceva cercato implementare senza grosso successo per caricare lo ski pass ha l'altimetro infatti c'è il sensore legato al tema olimpiadi questo è uno swatch particolare che viene venduto solamente in colorado al centro dove si radunano e si allenano gli atleti americani prima delle olimpiadi perché in colorado perché essendo un altipiano aiuta per sviluppare il fiato altro ma stiamo parlando forse delle olimpiadi invernali perché torino 2006 sono le olimpiadi invernali in colorado cosa c'è c'è quella famosa località che ora non mi viene in mente dove ci sono gli sciatori stiamo parlando delle olimpiadi invernali presumo giuchino carino e che non molti sanno che riguarda swatch omega e l'orologio di jeans bond ma swatch ci ha marciato sopra nel senso che negli anni 2000 swatch anche lanciato una amplissima collezione che che riguardava tutti i film di 007 e tutti i cattivi ogni film di 007 fino a quelli mi sembra il domani non muore mai però potrei dire una cavolata hanno uno svocio dedicato anni 90 questo è quello per from russia we love ovviamente super usato super vissuto me lo regalarono alla comunione e quindi immaginatevi cosa non ci ho fatto con questo però secondo me è una cosa molto carina da sapere più dell'orologio in sé certo cari sempre a livello di giochini vabbè non possono mancare ha visto l'avevo detto io e due sbagliare umano perseverare e diabolico non forte di mancare quelli di ero su voci non ha fatto solo giocattolini ma anche fatto orologi iconici io mi ricordo che tra gli altri questo negli anni 2000 quando io ero bambino non solo era il più gettonato tra noi ma addirittura era stato declinato in 3000 referenze diverse e avevano fatto anche quelle specifiche per le singole nazionali di calcio dei mondiali 2002 tra ultimo questo elegibile swatch per bape che però è un giocattolino da collezione e con questo ti saluto un saluto a tutti gli amici del canale alla prossima ciao 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 niente cos'è un video dedicato agli swatch praticamente quasi non mi ricordo più nemmeno i primi così erano sì c'era il mido multiple e brightling chronomat e bullover pilot e il mido va bene certina no dai ci ha fatto vedere qualche orologino decente decente ce l'hai fatto vedere sei e mezzo ti do un bel sei e mezzo soprattutto per quel brightling chronomat il primo che ci ha fatto vedere con il quadrante blu e cavalieri in oro giallo però se non mi sbaglio c'è anche la versione con il con gli accenti in oro anche sul bracciale rollo se non mi sbaglio non vorrei sbagliarmi però insomma è sicuramente una delle configurazioni che preferisco quella lì che è it e mentre lo guardavo dicevo però un giorno magari potrei prenderlo anche io poi mi sono anche emanati meno però subito ho fatto mente locale ho detto ma poi bisogna trovare che non ci sia che non sia qualcuno che ti dà la crocchione come al solito no che cambia questo bisogna vedere cioè io mi sono messo da parte tutta una serie di informazioni di risorse per studiare la storia dei brightling no del chronomat ed è complicata tra la lancetta dei secondi con la b quella senza la b con il fondello fatto in un certo tipo fatto senza un certo tipo bisogna andare anche pochino bisogna andare con cognizione di causa oppure fidarsi del venditore è sempre un po quindi e lo lascio in secondo piano anche perché vogliono un po di soldini comunque sei e mezzo te lo sei beccato belli orologi poi dopo sei passato tutti gli svocetti ai giochi giocattolini smooth swash e tutto il resto va bene dai prossimo video buongiorno davide ciao ciao francesco da reggio calabria è un caro saluto a te e a tutti i tuoi follower certo volevo farti vedere anch'io la collezione dei miei orologi che sono un misto fra quelli miei e di mio figlio anche lui appassionato va bene parto da questo wonder watch acquistato circa 40 anni fa in un mercatino delle pulci e l'ho indossato 31 anni fa al mio matrimonio beh sai le date recentemente l'ho fatto revisionare e va benissimo sappiamo cosa seguendo con altri vintage questo omega geneva bello veloce così questo stellina di cui però la corona non è originale poi questo seco seco dx era di mio zio io ero piccolino e vedevo sempre al suo polso questo orologio mi piaceva tanto poi da grande gliel'ho chiesto lui l'aveva ormai buttato in un cassetto l'abbiamo fatto sistemare e va benissimo un bello orologetto bella storia da questo era di mio padre acquistato negli anni 80 la storia di questo orologio che un giorno mentre lui aveva la passione del giardinaggio dell'orto un giorno mentre zappava lo perse l'anno successivo lo ritrovò uscì fuori dalla terra ma pensa te lo ripose in un cassetto tutto sporco di terra il mio figlio gliel'ha chiesto l'anno scorso due anni fa e lui l'ha tirato fuori l'abbiamo fatto revisionare sostituito il vetro è un bell'orologino tuo figlio gliel'ha chiesto vostro non l'ha da dire non l'ha da dire è vostro come dice rossone amilton khaki field 38 tutti conoscono eh sì amito khaki fil calibro h10 38 mm su tutto e questo è il cronografo cinese famoso con la st 19 se puoi notare ho fatto partire il cronografo per misurare di non sforare di non sforare quei tempi bravo vedi che qualcuno che lo usa c'è citizen pro master titanio ho messo questo cinturino in caucciù arancione sarà silicone caucciù è dura questo orologio è il mio primo automatico dopo aver acquistato quel meccanico il primo che ti ho fatto vedere questo qui l'ho acquistato 12 anni fa 12 anni fa allora che mio fratello compi 50 anni volevo regalare un orologio automatico siccome le spese di spedizione per un solo orologio si dovevano pagare mentre per due erano gratuite così ne ho preso uno per lui e uno anche per me sei svegliissimo per risparmiare le spese di spedizione vabbè a scimmia a scimmia dopo di quello il mio roggiaio di fiducia mi prendete questo il mio secondo automatico che ancora tengo è il maco che è stato il primo famoso maco di una serie di orient di cui poi recentemente ho preso anche questo della prima serie il rei della prima serie il rei uguale al maco cambia quadrante l'immancabile kamasu kamasu c'è tutti tutti gli orient ce li ha e recentemente questo nuovo kamasu che se non sbaglio ce l'hai anche tu si è più bello questo da blu si si questo qua è più bello di tutti da poi per rimanere in cina scusami in giappone in giappone s kx e se che ho nel made in japan acquistato nuovo mi piace la tua collezione mi piace questo tutto questo insieme di orologi questo bel samurai bello nero questo questo di mio figlio ecco a cui lui ha cambiato il cinturino nero ha messo questo in tinta con gli indici e azzeccato anche il tono non è facile bravo baby marine master si va di secco quasi pesa certo che è bello pesante ma comunque carino 62 massi ancora e quanti ce n'è di secco tutti belli e poi nemmeno secchini 5 uno dietro l'altro al mio figlio piaceva e si è voluto comprare questa versione bianca edizione limitata edizione limitata appassionato tuo figlio sembrava c'è gli orologi più belli dei tuoi long jean spirit 40 mm bello sto qua di questo ho anche il suo bracciale in acciaio bravo però preferisci portarlo visto a secondo della stagione la stagione questo un orologio che so che ti piace molto seiko gmt emilton kaki navi scuba blu bello che questo cos'è un orologio pesante ma io ho messo questo cinturino in pelle per alleggerirlo un po ma non è che ci sta benissimo a quattro ore comunque quello stile vabbè rimanendo in casa emilton ecco il resto il cronocopo che ha anche tu uguale 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 ce l'ho anch'io bisogna che lo rispolvono anche lui e per finire il mio figlio ha voluto comprare questo cartier tank del cartier tank al quarzo troppo quarto ma purtroppo ragazzi bellissimo per finire ancora quando luce non mi acquisto visto sul canale bello questo nivada si si ci sta un caro saluto a tutti ciao da francesco dalla calabria ciao francesco dalla calabria ci hai fatto vedere dei belli orologi sinceramente tanti tanti la maggior parte entry level quasi tutti entry level poi dipende come si considera il discorso entry level anche qua cioè 8 si è meritato un 8 proprio per la passione che ci hai messo nel cioè a volere tutti questi tutti questi orienti messi insieme uno dietro l'altro no e lì vuol dire proprio che hai voglia di avere quegli orologi lì poi dopo il 6 con 6kx tuo figlio tuo figlio anche lui non è che scherza ha preso due versioni dello stesso modello basta cambiare il quadrante bianco e scuro niente non uno da dire sia a te che a lui anche se poi magari magari l'hai utilizzato per usare i suoi orologi farli passare per tuoi e fare il bello il bel brutto cattivo tempo però 8 te lo do volentieri tanto quanto lo do ad altri con orologi più blasonati ad esempio va benissimo così va benissimo così un po ricordare cosa c'era c'era qualcosa dire subito all'inizio tutti i vinti giorni ci ha fatto vedere tra cui anche il bel st 19 della sigla che faceva suo dovere non gli spirit tanta roba anche la mito in drammatica cronografo e cartier tank che ha anche senso prenderò prendere qua non è che ci voglia per forza cartier uno di quei di quei marchi veramente legati al nome no cartier o quindi al design alla moda ma non nel senso di fashion watch alla moda nel senso più nobile del termine no e quindi è da la notte dei tempi che fanno gli orologi anche al quarzo che sono sempre andati per la maggiore ea senso secondo me più il tank che santo sguardo così di quel tank mi sembra quel classico orologio del cartier che si può prendere al quarto senza problemi io non ce la farei però capisco che si può fare mi sono anche dilungato anche troppo prossimo video ciao davide sono 17 anni sono qui per mostrarti la mia piccola collezione di orologi e certo e spiegarti anche il mio percorso all'interno di questo magnifico mondo magnifico che è anche una delle mie più grandi passioni bravo e per non farla troppo lunga direi di partire dal primo che dal primo si parte uno swatch a cui ho anche elevato la batteria perché si era scaricata fin garda che mi è stato regalato in seconda media se non sbaglio ho usato per tanto tempo proprio perché mi interessava comunque avere l'orario sempre a portata di polso da vedere niente di che giallo così e mi piaceva da piccolo da piccolo e niente di particolare e niente poi ai 14 15 anni mi interessava avere un orologio che sembrasse un pochino più serio ma non ancora non capivo come funziona sull'orologeria infatti e sono acquistato questo casio perché mi interessava appunto avere un orologio che sembrasse all'apparenza un po più serio no lo è un acciaio mettibile un po sempre che adesso utilizzo e principalmente come orologio da battaglia solo lo uso per andare in palestra oppure insomma non ne faccio un uso particolare sì mi ha capito successivamente sempre sulla stessa linea già volevo qualcosa di un pochino più elegantino senza per andare sul troppo elegante ho preso questo caso qua che avevo visto costava molto poco e come dire mi piaceva l'estetica non l'ho preso perché c'è gente che dice che questa ghiera zigrenata ricorda il day just ma secondo me comunque è una cosa diversa completamente diversa a livello estetico poi ovvio che l'orologio è un orologio comunque da 50 60 euro niente di che e l'avevo preso così per l'estetica che comunque mi piace ancora non metto spesso ma visto che non so spesso il verde questo quadrante e fa il suo dovere ecco come dicono in molti bravo passando invece al periodo in cui mi sono appassionato mio nonno mi ha regalato questo orologio che è un universal genev extra piatto infatti vedete spessore che è una cosa incredibile è un carica manuale e degli anni 70 con fibbia e corona originale cinturino non originale ma è stato fatto artigianalmente lucertola e me l'ha regalato mio nonno appunto che ha venduto orologi per tutta la vita e come lavoro appunto e possiede anche diversi orologi importanti e nella sua vita nella sua carriera ha venduto marchi come omega brightling e altri che adesso non ricordo e comunque grazie a lui ho scoperto questa questa passione che condividiamo e portiamo avanti grande e magari un giorno si potrebbe potrei anche mandarti un video degli orologi del nonno che non ha solo orologi da polso ma anche orologi da tasca orologi da tavola insomma orologi particolari interessanti sì sarebbe interessante se riuscissi a farlo ci piace tanto ci piace potresti mandare il video del nonno col nonno però me lo devi ricordare quando me lo mandi sono quello che ti aveva detto e vedere un po questi orologi che faceva il commerciante li avrà commerciati gli orologi nella carriera e li avrà commerciati sì mi stavi per fare l'elenco ma presumo che l'elenco dovrebbe comprendere tutti i marchi perché se uno lavora 40 anni 40 anni di commercio gli orologi li avrà commerciati insomma venduti tutti no? canale allora allora questo orologio invece è stato un acquisto un po' particolare si tratta di un vostro comandinsky che ha avuto una storia altrettanto particolare perché avevo voglia di mi affascinava il mondo dell'orologeria russa vintage perché alla fine si parla di un orologio degli anni 80 quindi ai suoi annetti quindi ho trovato su ebay questo ucraino che vendeva una serie di oggetti di antiquariato tra cui anche questi orologi qua ce n'erano un po' questo qua era quello che mi sembrava messo meglio e mi è arrivato dopo due settimane di spedizione un venditore gentilissimo e aveva una ghiera un po' lenta che era quella classica pallini rossi e neri vabbè sono partito per un viaggio in aereo è giornata particolarmente faticosa arrivo all'albergo guardo non c'è più la ghiera e vabbè fatto sta che non sono riuscito a trovarne una simile in buone condizioni e mi sono fatto mandare a pochi euro per pochi euro questa ghiera qua che è diversa ma anche più bella e sì è un po' un accrocchione però mi piace così alla fine non è un orologio che insomma per cui starei attento a tenerlo originale insomma va usato secondo me va usato un po così per divertirsi poi in origine aveva anche un cinturino veramente scrauso che ho fatto sostituire con questo cinturino in pelle nero e artigianale fatto da un artigiana sempre di fiducia di mio nonno e pagato pochissimo veramente di una qualità molto buona e invece sì per ora mi viene in mente che insomma avresti potuto lasciarlo anche senza ghiera visto che è un orologio da battaglia no potete lasciarlo così nudo e crudo e davite il senso il senso di esistere no un tuo orologio che ti è piaciuto l'hai preso se hai perso la ghiera durante un viaggio lo tieni senza ghiera perché perché vuoi dimostrare di avere personalità e che quell'orologio lì lo vuoi tenere così no piuttosto magari che metterci quella lì che non è sua che lo fa sembrare un pochino qualcosa che non è però va bene così era giusto per dire una una stupidata è mio ultimo acchiappo è stato questo citizen suiosa quadrante blu come l'hai fatto vedere tu sul canale è il mio primo automatico perché ho due orologi cariche manuale vabbè tre quarzi contando anche quello che non funziona più questo è il mio primo automatico stranamente e devo dire che mi ha lasciato molto stupito perché la qualità è molto buona le finiture sono buone è abbastanza preciso anche come movimento mi piace la lente magnificatrice a ore 3 e l'effetto del quadrante particolare in questa colorazione e lo rende molto piacevole e anche il bracciale è bello proprio sì il fatto di avere un bracciale integrato è una cosa nuova non avevo mai avuto mi piace e prossimamente ho intenzione di acquistare altri orologi con calma devo ancora valutare questo ce l'ho da poco e quindi mi godo questo e poi penserò a qualcos'altro da acquistare ma senza fretta e senza buttare via soldi ecco perché non non ecco diciamo che la disponibilità economica non è molta faccio vedere ecco la visuale complessiva sui miei orologi io ti ringrazio se pubblicherai questo video lo pubblichiamo sì volentieri e fammi sapere cosa ne pensi e ribadisco le mie possibilità sono ottime e ce non meriti giustamente 17 anni c'avano nemmeno i soldi per comprare i preservativi a 17 anni cioè ma cosa chiaramente la seconda ora me ne fatti vedere no tutti insieme hai fatto bene che così me li sono guardati e quelli di sotto sono quelli che hanno più valore no il senso lo tuiosa il comandirsky lino cos'è la fibra comandirsky e quell'altro che ho già non mi ricordo più cos'è perché la testa non ce l'ho cavolo l'universo geneve quello vintage tanta roba ecco un bel lotto per quei tre orologi lì e per il percorso che stai facendo alla tua età per la passione che ci metti 8 te lo do volentieri gli altri erano uno lo swatch del quando eri bambino e il caso che ti sei preso a 50 euro quando sei insomma tutti i orologi che ci stanno nel percorso e che rappresentano un punto fermo fino ad oggi no ai tuoi 17 anni che sei arrivato lì poi se c'è il nonno che c'è i pezzoni lì da parte che li vendeva ma cosa ti stai a sbattere attendi che il tempo trascorre no perché il tempo fa il suo corso purtroppo il ciclo della vita e prima o poi verrà in possesso di quegli orologi lì no diciamo la verità a meno che non c'è qualche grado di parentella che si infila in mezzo che poi li porta via vabbè però è sempre meglio comprarsi con i propri soldini e piano piano te li metti da parte poi quando riesce a raggiungere quell'obiettivo che fosse anche l'orologio da 200 euro è tanta roba se te lo compri da solo va bene dai io il voto te l'ho dato sono contento che mi hai mandato il video continua la tua passione e divertiti che tanto poi ce ne avrai di orologi vedrai quanti ne vuoi magari la passione ti scomparirà per qualche anno poi ti tornerà in termittenza no e poi magari più ti avvicini alla vecchiaia più ti tornerà nel senso che poi a un certo punto che minchia fa nella vita allora ho collezione di orologi come faccio io e basta e tutto il resto no va bene dai ragazzi io non è che posso stare qui a parlare di orologi per sempre devo andare a vedere i gattini su instagram tra una pettinata di giaguaro e una carrizzana bambola e vado un pochino a vedere i gattini poi dopo mi rilasso e dopo posso mi ricarico e posso rifare dei video nuovamente posso di nuovo vedere altri orologi anche la scimmietta vuole il suo relax io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao ciao